Benvenuti, siamo all'interno della casa del popolo di Castelfranco di Sotto, nata nel 1965, stata ristrutturata completamente e vi accompagneremo nei pranzi di lavoro, nei nostri aperitivi e tutte le nostre attività. Siamo aperti tutti i giorni, dalle 7 del mattino a mezzanotte, mezzanotte e mezzo circa, chiusi il lunedì. Effettuiamo i nostri pranzi di lavoro dalle ore 12 alle 14 e l'aperitivo dalle 18.30 in più. Grazie ai nostri clienti affezionatissimi e grazie a loro siamo diventati ciò che siamo. Vi aspettiamo! Grazie! 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 Grazie!